Sì, oggi il punto ci sta stretto, come abbiamo visto, abbiamo creato tanto, però la strada è quella giusta, adesso mettiamo queste due settimane alla pausa nazionale, oggi dovremmo lavorare ancora di più e migliorare giorno per giorno. È mancato il gol, penso, è mancato quello, perché abbiamo fatto tutto, siamo dietro, siamo stati attenti, loro hanno creato poco, forse l'ultima palla che era un po' rischiosa, ma niente di preoccupante. È mancato quello, ma ripeto, la strada è quella giusta, perché abbiamo creato tanto e dobbiamo continuare su questa strada e pensare a partire la partita. Guarda, intanto secondo me Paragoni non è meglio, non è bello farlo, quest'anno è tutto un altro anno, quest'anno penso sia un campionato difficile, abbiamo visto le squadre che sono le nuopromosse, sono attrezzate tutte, perciò anche questo punto è che ci sta stretto, ma è oro, quindi dobbiamo prendere i più punti possibili e pensare a partire la sua partita. Senz'altro loro vorranno far punti contro di noi in casa e lavorando anche lo stadio, noi queste due settimane le prepariamo al meglio e ci faremo trovare pronti per portare qualche punta a casa. Ma sì, il pubblico è sempre il 12esimo uomo in campo, ecco, ci dà sempre una mano nei momenti di gioia e nei momenti di difficoltà, dobbiamo noi trascinare dalla nostra parte con il lavoro, con la corsa, con il sacrificio, con la determinazione e ripeto, poi i punti arriveranno. Grazie a tutti.